Ciao a tutti, sono sempre Cocomaster questo video è velocissimo è per annunciarvi che oggi alle 11.45 ora sono alle 10.45 quindi fra un'ora esatta farò la mia prima live sul canale farò la mia prima live sul canale mi raccomando alle 11.45 chi può guardarla mi raccomando venga perché mi raccomando venite in tanti quindi qua è tutto pronto per la live qui c'è la telecamera ciao ragazzi, aspettate ciao ragazzi non mi sentite insomma vabbè qui è tutto pronto, c'è la telecamera il computer pronto per registrare la live, quindi mi raccomando alle 11.45 venite sul canale perché farò la mia prima live ci vediamo dopo ciao Grazie.